Carlo, non so se capite, qualcuno è stato a privilegi stasera a vedere un certo tiesto, scarso, scarso. Forse ci si vede più tu eh, forse. Ma forse più tu, tu che sei davanti al computer. Forse, forse. Stai divertendo? Divertito? Nah, più io, più lui, più anche l'altro. Io molto, lui di più, lui di più di tutti. Tu non sei nessuno, tu non sei proprio nessuno, devi capire. Proprio niente. Senza, senza.